Cosa hai spiegabili? Eh? Chiedevo se hai mai avuto esperienze paranormali. Sì, sì. Avevo... Il primo appartamento dove andai a vivere da solo fu comprato grazie ai primi guadagni che feci con la televisione per cercare anche un'indipendenza dalla famiglia, nel senso che ho cominciato a lavorare quando ho 19 anni e vicino a casa nostra avevano ammazzato uno, per cui quell'appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l'ho preso e amen. E sono andato lì. E devo dirvi che per un certo lasso di tempo non è successo niente, poi è cominciato una situazione strana. Durante la notte io andavo a letto e la mattina quando mi risvegliavo c'erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti, poi ha cominciato a partire lo sciacquone di notte. E mi sono domandato che cosa potesse essere, insomma. Dopo un po' era diventata un po' una rottura di scatole e l'ho, come dire, ravvisata nella presenza di qualcosa. Allora una sera sono rientrato, ero piuttosto stanco, e ho ritrovato quando sono tornato a casa le luci accese e gli armadi aperti. Ho spento tutto, mi sono messo sul divanetto del salottino e ho parlato nel buio con quella che presumo fosse un'entità. E ho detto, senti, guarda, a me mi dispiace che tu magari vuoi comunicarmi qualcosa, ma io non te capisco. O te fai capì, perché se dobbiamo passare tutta la nostra esistenza, io qua dentro, te chissà dove, ad aprire i cassetti, a far partire lo sciacquone, avresti rotto anche i coglioni. Sono stato abbastanza chiaro e da quel momento non è successo più niente, finché una sera venne, per la prima volta, Sonia a dormire da me. E lei mi ha detto che nella notte ha visto una presenza scura che si è avvicinata al nostro letto e ha sovrastato lei e ha messo una mano su di me e ha cominciato a parlare. Io non mi ricordo niente. La mattina, quando me l'ha raccontato, le ho spiegato la vicenda. Da quel momento non è successo più niente, tranne che ho cambiato casa, perché se non si dormiva più.